Maastricht che erano i 30 anni del trattato di Maastricht e poi attraversando 5 paesi perché c'è anche l'Olanda, il Belgio, abbiamo fatto anche l'Austria, quindi diversi paesi che abbiamo attraversato dove noi abbiamo lasciato il segno del nostro territorio. Non a casa abbiamo sempre portato con noi delle testimonianze anche concrete del municipio 10 di Roma. Quindi i valori tra cui la promozione del territorio ma anche poi la donazione del sangue e l'ambiente. Sangue, ambiente, mobilità sostenibile, ciclabilità, sono valori che una bicicletta trasmette però in Europa ci è piaciuto anche portare il messaggio dei ragazzi liceali di Ostia e limitrofi anche dell'entroterra sull'Europa che si aspettano che debba essere nel futuro, la loro Europa, che noi siamo i testimoni ma siamo anche coloro che dovranno lasciarli in eredità e cerchiamo di lasciarli in eredità nel modo migliore. Sono queste iniziative, queste persone, basta guardarli, che fanno queste cose con un entusiasmo incredibile e quindi il messaggio finale che ha dato Giuseppe lo facciamo perché vogliamo, per chi viene dopo di noi un mondo migliore, un mondo solidale, tutti che ci sentiamo più cittadini d'Europa, con valori importanti, fondanti beh meglio di questo credo non ci sia nulla e questo è uno stimolo anche per noi sia nel municipio ma credo che valga anche per Roma eccetera a fare sempre di più e meglio. Poi se mi permettete per uno come me ma come voi che ama profondamente questo territorio che queste persone abbiano portato una parte di questo territorio a Bruxelles insomma ci fa impazzire di gioia.